Un doppio appuntamento al Conservatorio Vivaldi di Alessandria con un pomeriggio dedicato alla rassegna scatola sonora che ha visto in scena il concerto Pazze all'Opera, ossia un soprano, un flaute, un pianoforte alle prese con un intero catalogo di pazze intrappolate tra le note del melodramma e una conferenza stampa sorpresa per presentare un nuovo progetto a cadenza biennale che nasce da 12 istituzioni diverse rigorosamente italiane e di alta formazione artistica. 12 conservatori di cui il Vivaldi è capofila, accademie di belle arti e università raccolte nel progetto Casta Diva che vedrà le figure femminili del teatro musicale protagoniste, eroine, dive e protagoniste della scena che dietro le quinte come impresarie, compositrici e costumiste hanno lasciato un segno nella storia. Tra le attività inserite grazie alle risorse previste dal PNRR, programmi educativi, convegni, produzioni artistiche, attività di ricerca musicologica e musicoterapeutica. Tantissime le produzioni che nei prossimi mesi si susseguiranno, tra queste Suor Angelica e La Rondine di Giacomo Puccini, La Turanda di Antonio Bazzini, Alsina di Georg Friedrich Handel, Judita Triumphans di Antonio Vivaldi, il console di Giancarlo Menotti, nonché una cosiddetta operina collage composta da studenti, a partire da scene celebre di pazzia femminili, tratte dal vasto repertorio di opera lirica nel corso dei secoli, dal 600 fino a Verdi. In programma poi anche un ampio progetto che sarà dedicato al canto della Sibilla, canto gregoriano e dramma liturgico dichiarato patrimonio immateriale dell'umanità dall'UNESCO nel 2010. Insomma una biennale davvero variegata e importante, che metterà in risalto l'emancipazione femminile nel teatro musicale, la storia e l'opera di costumiste italiane, nonché le figure femminili sacre e la loro rappresentazione nella musica e nell'arte. Ci sarà anche un portale internet che si chiamerà proprio Castadiva, super tecnologico che oltre a raccogliere contributi artistici e di ricerca si avverrà dell'intelligenza artificiale per riprodurre scenografie virtuali e costumi. Il progetto si concluderà nella primavera del 2026.